Manda qualcuno perché è esploso tutti, tutti quanti, è in strada Rocco, lì dove ci sono i vigili, c'è un buono giuro. Porca miseria, ma eh... Manda tutti, siamo feriti, siamo feriti, siamo tutti feriti, tutti quanti, tutti, manda veloci che c'è un buono giuro. Ti mando le ambulancie anche, dai, riesci a stare al telefono? Ti ci provo raga, sto male, io ve lo dico, io sono sotto qualcosa, non so cosa, sto malissimo. Roberto, mi confermi che sei in strada Ronco? Eh sì, praticamente, tanto vedi una macchina nostra Pasqua, mandali tutti, siamo cotti Pasqua. Siamo tutti cotti Pasqua. Aspetta Roberto, aspetta che sono col 118, sì? Deci di fare il fretto di mandare delle due perché è crollato tutto qua, eh. Io ho già toccato il fretto di mandare delle due perché è crollato tutto qua, eh. Ah beh.